Sì, così non dicevi, così non rubi più. Una volta Laura, da grande di meno, ma da ragazzo, ha spolpato tutto, ha spolpato. Allora, stai sentendo che parlo con lei, stavo dicendo, ah ecco, ecco, allora, stai a sentire. Ehm, non è confuso, non lo so, discorso. Il giorno c'è nato, il martedì? Sì, il giorno che dopo è morto, sì. È morto, il martedì. Mi scrive il martigiorno dopo. Eccolo. 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 Ma come faccio? Sto chiamando, sì. Non ho fatto appoggiarlo qui, grazie. E' un rosace, mi aspettavo, è un bello. E' un rosace. Così gli fai male mentre vede quel figlio. Ma non gli avrà fatto così, dice lui, dai. Ma lui è luce testimone. Lui è un patato. Hai ragione. Esatto. Lui l'ha detto, ma non l'ha fatto. Ma lui è il più cattivo di quello che viene. No, lui è una roba così, dai, del giro. Uno scappelloso. Non era una carezza. Un buffetto, dai. No, no, sto scherzando. No, è un po' più caldo. Così l'ho cominciato dai ragazzini. Come sai come... Però è un ladro centiduomo. Però non è un ladro centiduomo. In base al 5 miliardi da 5 miliardi. In base al 6 miliardi da 5 miliardi. E' il peso del bilancio statale sull'interno filo italiano. E' preporterà lo stato italiano. Lo stato italiano nel 2021 ha speso circa 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 61 miliardi di euro. E' in questo mondo. Di questa bellezza. E' un bello del 0,2020 pari al circa il 59 per cento del filo. Pensa, nel 2021 ha speso il 18% Guarda che luce, guarda che luce Chi pesta la merda va a casa a piedi Chi pesta la merda va a casa a piedi A me mi piace un po' il luce, però la luce è la luce Perché a lui non vedi mai tutto per dire, vedi questo carro Della luce, vedi questo luce Ti capisco? Sto bene? Sto bene? Grazie. 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 Grazie.